Salve a tutti ragazzi e benvenuti insieme in questo nuovo video di Ashen Bene, andiamo a fare le quest, ci ritornerò lì perché devo assolutamente ritornarci È una questione proprio di tale importanza Io andrei a fare questa, che comunque devo andare qui e siamo a due passi Speriamo di non morirci perché perderei veramente tanto Mi dispiacerebbe molto Allora Così è un po' più di stamina Ok, in due riusciamo ad andare sicuramente meglio Ok Diciamo a fare qualcosa di in più perché se no, ragazzi, diventa un bel casino qui Ok Vai Oh, cazzo, dicevo che era il mio quello Porca vacca Io spero mi aiuti Perfetto Ma che cazzo, mentre beveva Oh, siamo andati proprio bene Eh, adesso si tornerà qui, sarà guidito in culo Allora ragazzi, in cercare di tornare in ghiera Sul posto del delitto Ho trovato una costruzione dove c'è Sembrava una caverna Siamo Dove porta, sicuramente niente di buono Però ci proviamo D'altronde Dicevo, d'altronde cosa posso fare Ok Chi ha minato? Bravo Tu mena sempre, eh Che non si sa mai Dai, vieni 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 Per cacchio, sarà andata a finire quella Non la trovo Vabbè, andiamo avanti Che vi devo dire Adesso con le altre le prenderemo le nostre anime Scordino che scappino Mi cazzo Si chiamano Oh, qui mi sta facendo venire i nervi, ragazzi, eh Troppi nervi Ok Allora Ok Aspetto Ce n'è nessun altro Ok, vediamo cosa c'è qui Come al solito niente Allora dai, proseguiamo Spremmo bene Vediamo un po' Chi è? Ah La luce non la accendi te Oh Oh cazzarola Ma hai fatto cacare in mano Sì, ma cazzo La luce accendila però, eh Santa miseria Solo io devo accendere la luce Eh, che cavolo Ok La fai? Ma te la luce non ce l'hai Proprio zero, eh Non ci siamo per niente Non è che ci sono proprio Ok, grazie, eh Ha deciso la luce Eh, come facciamo? Come ce la giochiamo, questa? Molto male, quanto pare Eh, eh Dammi sto loco dove dico io Vai Ok Una è andata Questa è andata sicura Vediamo Bastarda Bastarda Però l'ho preso un po', eh Un po' le prese, le botte Ci detirò Ecco qua Una è andata Anche due, eh Eh dai, in due in un colpo Non è malo Forse anche tre, eh Vediamo un po' questa Tac E vai Mi sei piaccionato Adesso vediamo dove poter andare Bastarda qui Dovrebbe Dovrebbe niente Perché Dicevo che si congiungesse Invece non ha fatto un cazzo di niente Allora, vediamo un po' Sì, sì Si congiunge Credo Io adesso lì proprio Di andare non lo voglio Voglio proprio vedere se si congiunge Perché Mi sembra linea d'aria di sì, eh Qui dopo gira Quindi In teoria Siamo lì Vedete Sì, sì, sì Si congiunge Di più vedere se riesca Riesca Se riesco ad andarsi qui Ok Siamo qua Vai Perfetto Ok Direi che l'abbiamo esplorata bene Questa caverna Non so dove porti Ok Sembra l'uscita Vediamo un po' Un po' curioso Oh che bello L'uscita E siamo Ma qui non c'erano queste L'ho fatta Mi hanno messo un resoconto Cazzo Ne abbiamo tante completate Bene Sono abbastanza contento Dobbiamo andare Qui A riprenderci Le nostre proschie I nostri dovuti Insomma Ok Vieni qui ragasso Devo venire un attimo Mi scusi lei È stato un piacere È stato veramente un piacere Vediamo un po' Scegliamo Ecco qua Non ho fatto quello che volevo No, no, no Ne hai capito un cazzo Tom Ecco qua Così c'è Quando c'è molta gente È una figata Usare questa Perfettico Andiamo a vedere cosa c'è qui Vediamo Un osso Il potenziamento C'è tutta roba buona Che fa più carità Però insomma Aspetterebbe A proposito Questo scudo Dove È? Vigilazione La resistenza La resistenza è meno 40 Meno 60 È molto meglio questo Però fa meno Da Fa meno protezione Palle Non lo so Ci devo pensare Ma Uh Buono Non è del volo Però comunque Del Del coso Della cosa del coso Mi fa piaciore Ok Prendiamo questo Vediamo cosa possiamo fare I denti che emozione Oh salve No magari un altro giorno Grazie Eh poi ti tolgono un casino eh Devo assolutamente andare Da lui L'abbiamo aspetta un attico Forse Eh ma vaffanculo Eh che cazzo però eh Ok Qui ci siamo Vai No tradizione Eh vaffanculo Vai Ok questo è andato E adesso tu dovresti farcela con lui Vai To Oh Sono contento Cosa ho preso Cosa ho preso Pensavo di aver preso Un nintendo a lui Invece Mi ha dato Un randello Due mani Insomma si Dopo ci guardiamo eh Questi Questi cosi Vediamo come fare Vediamo un po' Un altro potenziamento Non è che mi dispiace Perché comunque Almeno mi dà le possibilità Di provare diverse cose Mi servono soldi però Eh Va bene Se moriamo di meno Ne facciamo di più eh Di soldi Oddio non è vero In realtà se moriamo di più Ne facciamo di più Perché dobbiamo di fare Sempre le stesse cose Per prendere Dopo la roba Allora Dov'è il mio dovuto Dovrebbe essere lì Ragazzi Lì Perfetto Abbiamo fatto il giro Sono molto felice Di questo E quindi non siamo venuti A prendere la roba O non me ne sono accorto proprio Ecco qua Vai Perché in teoria Perché in teoria Io qua ero venuto Vi ricordate Ero salito Ero sceso E ho detto Ragazzi Questa è una caverna Esatto Oh Va bene Si è potuto arrivare Anche da un'altra direzione E la cosa mi fa molto piaciore Vuol dire che l'esposazione L'ho fatta bene Perché se sono riuscito a trovare Uh Guardate cosa c'è lì Interessante E c'è anche qualcuno Allora Cosa facciamo Cosa facciamo 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 così E Oh quanto mi dispiace Oh quanto mi dispiace Mi sarà fatto malo Eh di pazienza Capita Non si butti giù signore Si tiri su Eh si è buttato giù Depressione brutta Ok Ok Siamo al punto Di non ritorno No va bene Non è proprio vero Però diciamo che siamo in un punto Dove ci fanno il culo Quello sicuro Io esploro eh ragazzi Esploro sempre Perché non ci sia mai Abbiamo il compagno diverso Da quello di prima Quindi Dovremmo essere abbastanza a posto Vediamo se lo riprendiamo Sì Vediamo un po' Oh Dai 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 Oh Che esplosione di gusto Sì sì Di gusto Di gusto Vai Tata Oh Vediamo un po' No no Un attico sciolo Devo fare una cosa Oplala Ne abbiamo presi due Dai Ne abbiamo presi due Se ci va bene E adesso vediamo se Quindi prendiamo due Tac Oh Due è meglio che one Come si suol dire E qui siamo andati in un altro posto Teoria Allora vediamo un pochino Di prendere tutto quello Che dobbiamo prendere Prima di proseguire Perché la cosa Mi piace parecchio Allora la questa La questa C'è questa Beh non fa una piga Insomma Sì Oh Cominciamo a esplorare Ok Mi va bene Perché comunque Dovevo fare Prima o poi Ste frecce Ok Vediamo un po' Così Perfetto Oh Sto scudo Non è che potrebbe Tanto Ragazzi Mi fa piaciore Saperlo prima Insomma Sì Eccoci qua E pam Sembra che qui ci sia qualcosa Ovviamente non posso andarci Perché Ho vedo la stamina Oh Questa Penizione Siamo Ho capito dove siamo Andiamo avanti un altro po' Vediamo come poter fare Se c'è qualcosa di buono Qui Oh ma quella No è impossibile La sirena Sembra Quella che abbiamo trovato All'inizio Inizio Nella caverna Ma forse mi sbaglio Passa tanto tempo Adesso ricordarsi Magari ci assomiglia Basta però Oddio Prima Volevo venire qui Perché abbiamo visto Che c'era qualcosa Che io non ho visto Ok Oh infatti Infatti L'esplorazione Ragazzi L'esplorazione Non c'era un cazzo Per carità Però Oh Sempre l'esplorazione Salve Il mio Ho menato il mio Va bene Sono qui Ah siamo tornati dove eravamo Ok È tutto chiaro Quindi andiamo un attimo giù Per prima di andare su Dai andiamo un attimo giù Che Oh Ma siamo dalla cresta Oh salve Oh salve salvino Porca miserica Ok Allora ho preso Ho preso Ho preso E va che lo prendo E va che lo prendo Oh che gusto Eh Sì eh Ok Perfetto E questo È andato Bene Possiamo andare A farla questa Qui c'è qualcosa Ok Vediamo cosa c'è Bene Abbiamo fatto Una vagonata Di questa volta Sono contento Sono molto contento E questi qua Adesso io come li butto giù Parolacce Scusate Fate una bella figura di merda Aspettate un attico va Eccoci qua Così siamo tutti contenti Ecco Oh bravo Dai È stato bravino Ah abbiamo finito Ok Andiamo a vedere cosa c'è Poi facciamo la cresta Oh c'è un lampone Un po' cosa sia Vediamo Che fatica Salve signore Oh signora Non lo so Signore 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 Quindi vuole che ti uccida? Eh, che brutta cosa. È così un figlio di fiducia, così bella. Mi ha dato il suo doll, quindi non sarei triste. Ho lasciato lì, lì. Io... Dovevo ucciderlo. Mamma mia che storia straziante. Lui ha provato a fare quello che pensava fosse giusto per il suo popolo, purtroppo... C'è rilevato ad essere la cosa più sbagliata che potesse fare. Eh... Accidenti. Va bene, ehm... Mi dispiace. Andiamo pure avanti che devo finire l'ultima cresta. Penso che devo andare da quella donna signorina pesce. E vediamo cosa succede. Ok. Qui c'è della gente brutta e cattiva. E andiamo di qua prima, perché voglio dire... L'esplorazione, ragazzi, è importante. Importante. È importante anche sopravvivere, lo sapete? No, io dico, eh. Poi dopo... Eccoci qua. Oplala. Però... Vai. Ecco qui. Così. Oh. Un è quasi morto. Meno male che c'è il mio compagno. Che fa qualcosa. Accidenti. Allora, vediamo cosa ci può essere di qua. Non posso correre. C'è qualcosa davvero. Io ero dato lì per ridere. E invece c'è. Oh, cazzo stavo per cadere. Se stavo per cadere per un cavolo di ramo... Era la fine dei miei giorni. Allora. Che dopo dovevo ritornare qui e scoppiare cos'era. Poi scoppiare che era un ramo. E non era bello. Ok. Di qua non si può andare, a quanto pare. A meno che non si possa scendere. Qui si può andare, invece. Cosa dico? Salve. Ma magari un'altra volta, eh. Ecco, bravo. Scenda così. Le faccio vedere come si fa. Ecco, ci pensi lei, amico. Intanto sono sicuro che ci riesce, infatti. Ok, vediamo qua cosa c'è. Oh, ma c'era qualcosa per davvero. Vediamo. Beh dai, un potenziamento. Ma sembra che così si vada. No, forse mi sbaglio. Però non ho altra scelta, ragazzi. A qualche parte devo andare. Devo pure andare, no? E quale strada posso fare se non questa? Non lo so. Non lo so. Non lo so. Non è certo questa. Allora, ragazzi. Sembra che da lì si vada. Quindi io adesso, 4-4, proverei a andare di là. E vediamo cosa succede. Dai, sali. Oh, bravo. Oh, salve. In teoria, a livello teorico. Eccoci qua. Ho deciso questo. Di là si va. Però per andare di là io potrei andare. Oh, ma salvi. Ma se siete lì fatti tutti voi. Simpatici proprio, eh. Eccoci qua. Ok. Bravo. Ecco, stavo dicendo di qua. Sembrerebbe che in qualche modo ci si possa andare. Esatto. 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 Esattissimo. Qui c'è una caverna. E quindi facciamo così. Oh, salve. Vediamo un po'. Arrivo. Oh. Questo non mi piace. Lo sapete? Ok. Ok. Oh, beh. È stato facile. Intanto si è bevuto un'aspirina. Perché, insomma, ci fa bene bene ogni tanto. Dai. Eccoci qua. Abbiamo faccionato. E andiamo pure avanti e vediamo che succede. Non si vede un casso. Avete tanta pazienza, ma... Eccoci qua. Ci siamo a posto. Guardalo. Nient'altro? Vabbè. Mi fido, eh. Questo? Ah, il mio amico. Ok. Sembrerebbe che ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ditemi che la questa è quella. Speriamo bene, va. Così ne abbiamo fatte tante, tante, tante. Io sono tanto tanto contento. Vediamo un po'. Sembrerebbe che devo andare di qua. Volevo vedere se c'era qualcosa di nascosto. Magari... Qua sotto. Sembrerebbe di no. È un... Però è strano, ragazzi. Io l'avrei messo. Vediamo un po'. Tracate. Ok. Non c'è niente. E vediamo se... Effettivamente... Effettivamente è di qua. Però qua non c'è un cazzo. Io provo ad andare dalla signorina. Salve signorina! Com'è carina lei. Ah, un bellissimo... È più forte ora, figlio mio figlio. Io credo che era lei. In spirito, in corpo e in la compagnia che hai. Amara... 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 Di cresta. Abbiamo tre... Cinque quest da consegnare. Ottico! Considerando che una l'abbiamo finita. Che è impresa completata. Se non ce n'è un'altra. Questa... Quindi sì. Due... Quattro... Abbiamo sei. Queste cinque le abbiamo finite. Beh, di tutto rispetto. Come poter dire di no. Non so esattamente l'altra dove devo andare per farla. Però... Io direi così quattro quattro. Di tornare verso casa. Non ho esplorato al cento per cento. Però sono abbastanza contento di come l'ho fatto. Perché abbiamo trovato tante cose interessanti. E qui un'arma nuova e... E sì. E tanti punti. Tanti tanti punti. Perché abbiamo centomila. Centomila più... Abbiamo... Nove di questi. Diciamo così. Abbiamo... Nove di questi. Che sono novantamila. Che sono di tutto rispetto. In più, dobbiamo consegnarle queste. Consegnarle queste. Di solito ci danno qualcosa. Allora, vediamo un po' dove dobbiamo andare. Un po' da tutte le parti. Allora, vediamo di qua. Eccola. Qui signorina salve. Eccola. 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 Ah, ci ha dato parecchio. 15 di salute. Sano e robusta costituzione. Una lancia. Ah, possiamo fare la lancia nuova. Beh, interessante. Vediamo un po'. La lancia nuova. Eccola qui. Sette. Per farne nove. Sette. Ah, quindi spero si possono comprare. Perché io sette non ne ho. Fa tanto, eh. Perché fa 124. Queste qui potrebbero essere molto utili. Io direi di farne queste qui normali per il teletrasportico. E le altre per uccidere pesantemente le persone. Mi sembra giusto. Allora, intanto questa qui la mettiamo qua. Così invece ci togliamo uno slot. Poi, qua cos'è? Rigenerazione e resistenza. Andiamo a vedere quanto spazio abbiamo. Perché mi sa che qui di spazio comincia un po' a scasseggiare, eh. Vediamo un pochino. Vediamo un pochino. Io metterei via questo. Metterei via questo. Metterei via questi. Questi, questi. E vediamo un attico. Se ho fatto bene i miei calcoli. A questo li prendiamo. A questo li prendiamo. Dovremmo essere a posto con tutto. Stavo guardando l'ultima traccia. Allora, questa abbiamo detto che... Devevamo guardarci perché non ne ho idea. E questo lo mettiamo via. Ok. Penso e credo che... Dai, stiamo arrivando a un buon punto. Abbiamo tanti soldi. Perché abbiamo 13... 130 mila. Più questo che non so quanto sia. Più 100 mila. Non so se ben basteranno per quello che abbiamo venuto di fare. Però abbiamo anche delle queste. Che da risolvere da consegnare. E probabilmente ci arriviamo. Vediamo se qui abbiamo qualcosa. Sì. Signorina. Perfetto. E anche questa è andata. Guardate quanti punti. Fantastico. Ragazzi, io direi che ci possiamo affermare qui. Se non facciamo video troppo lungo. Come al solito vi invito a lasciare un like e un commento. Se mi piace alla serie. E fammi sapere cosa ne pensate. E per adesso vi do saluto a Shima. Ciao, ciao.